acciaio italiano ed europeo all'orizzonte ripresa di prezzi e domanda anche se a pesare molto sarà il restocche dei magazzini restoccaggio crescita a due velocità e ritorno ai livelli di consumo del 2015 grandi trend del 2023 acciaierie d'italia ancora un rinvio assemblea giornata al 22 dicembre vertici a palazzo chigi sulla memoria presentata da arcelor mittal impianti ancora al minimo mette invest danieli progetto presentato in un'assemblea pubblica piombino buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del sider web tg un'edizione nella quale cominciamo a fare il punto sul 2023 che anno è stato un anno a due velocità una prima parte positiva sulla scia del biennio che si era appena concluso è una seconda parte di rallentamento e di maggiori difficoltà quali sono stati i grandi trend dell'anno che si sta per concludere è stato al centro dell'ultimo appuntamento dell'anno con mercato ed intorno il webinar di sider web che fa il punto sulla congiuntura siderurgica sentiamo quindi la sintesi dell'analisi che è stata presentata dall'ufficio studi sider web nel primo servizio di oggi sono cinque i macro trend che hanno caratterizzato il 2023 in modo molto profondo e che forse segneranno anche il 2024 il grande protagonista in europa in italia dell'attività della distribuzione è stato il destoccaggio soprattutto dei magazzini dal pronto il valore delle scorte è sceso ai livelli più bassi degli ultimi sei anni si è registrato una sorta di ritorno al passato su livelli più vicini alla media storica per prezzi utili e consumo per la prima volta poi nel 2023 i prezzi dell'acciaio indiano sono apparsi strutturalmente più alti rispetto a quelli di cina giappone turchia segno che il paese è un nuovo grande protagonista del mercato siderurgico globale altri fenomeni che hanno segnato il mercato sono i conflitti internazionali che hanno portato ulteriore instabilità e incertezza e le due velocità di crescita dei grandi gruppi siderurgici da un lato c'è chi investe anche in chiave di sostenibilità ambientale dall'altro chi è in crisi come Celsa, ThyssenKrupp, Stihl e la stessa Exilva da monitorare per il prossimo anno l'entrata in funzione del Cibam e la chiusura del mercato russo da ottobre 2024 non sarà più possibile l'import di semi lavorati in UE, normative che secondo l'analista di Kallanish e collaboratore Siderweb Emanuele Norsa potrebbero ulteriormente fiaccare l'export siderurgico europeo in progressivo calo. Questi quindi i grandi trend che hanno segnato il 2023 e che si protrarranno anche nel prossimo anno, proprio nel prossimo anno nella seconda parte si potranno registrare segnali più decisi di risveglio e questa l'opinione di Alessandro Banzato, il presidente di Acciaierie Venete che è intervenuto nel nostro webinar. Ci sono segnali che ci dicono che i mercati in qualche maniera stiano dando segnali di un po' di ripresa anche se siamo appena agli inizi di questo nuovo movimento e dovremo vedere un po' come si consolida. La spinta certamente c'è stato un forte destoccaggio per cui era abbastanza pensabile che in qualche maniera si ricominciasse ad acquistare e poi bisogna tenere presente che ci sono aumenti dei costi, dei fattori produttivi nostri che sono importanti. Il Rotame sicuramente sta vivendo una fase di rialzo che è anche abbastanza violenta. Adesso vediamo un po' come si svilupperà poi in seguito, ma insomma è sicuramente una fase di rialzo. E per quello che riguarda le energie che sono un altro fattore di costo importantissimo per noi produttori, certamente non abbiamo visto quel calo che magari ci si poteva aspettare con un momento di frenata di mercato così importante. Quindi credo che le spinte per un po' di ripartenza del mercato si comincino a vedere e ora vedremo come si svilupperanno le cose. Diciamo che in presenza di un aumento di costi non può essere che i prezzi dei prodotti finiti restino fermi. Noi ci aspettiamo che i mercati debbano avere, da un punto di vista dei prezzi, un rialzo già dall'inizio dell'anno prossimo. E se nelle ultime settimane si sta registrando un risveglio per quel che riguarda le quotazioni dei prodotti siderurgici, esso è determinato esclusivamente dal ristoccaggio. È l'opinione di Stefano D'Aprile, il direttore generale di Commerciale Siderurgica Bresciana. È sicuramente una fine di un miniciclo di ristoccaggio. Le basi dell'economia non credo siano ancora positive. Questa fase di aumento di prezzi credo che sia determinata esclusivamente dalla fase di ristoccaggio del materiale. È vero che gli utilizzatori oggi non stanno facendo programmi a lungo termine, stanno anche loro cercando di riempire quelli che sono i loro ordinativi, però a breve termine, che non hanno un orizzonte molto ampio. Io prevedo che il mercato nei prossimi mesi sarà un mercato sostanzialmente stabile, con dei aumenti lievi, perlomeno mi auguro, anche perché poi vedo che ogni volta che c'è la ripartenza del COIL vengo regolarmente smentito, ma la previsione è che fino a marzo si possa essere in un miniciclo di aumenti brevi senza grossi sconvolgimenti dal punto di vista di prezzi. Anche perché effettivamente veniamo da anni in cui le quotazioni erano veramente imprevedibili, sia in aumento che poi soprattutto in discesa. È chiaro che hanno portato degli scompensi sul mercato e soprattutto avevano anche delle differenze enormi rispetto a quello che era il resto del prodotto siderurgico. Parlo soprattutto di un tondo cemento armato, piuttosto che l'amminato mercantile o la trave. Dal mercato passiamo alle grandi vicende siderurgiche nazionali, perché la nuova Assemblea degli Azionisti di Aceri e d'Italia, che si è chiusa di nuovo con un nulla di fatto, dalle poche notizie trapelate sull'incontro pare che Arcelor Mittal abbia presentato una memoria di 12 pagine nelle quali da un lato sottolinea ancora una volta l'inadempienza del socio pubblico in Italia rispetto agli impegni sottoscritti attraverso i patti parasociali, come denunciato più volte anche da Bernabè e Morselli. Dall'altro rivendica gli ingenti investimenti apportati da quando è in gestione gli inchianti dell'Exilva, un documento che secondo diverse fonti sembra sia stato poi posto all'attenzione di Palazzo Chigi, dove la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i ministri interessati dal dossier Fitto, Urso e Giorgetti si sarebbero poi riuniti. L'Assemblea è rimasta aperta e tornerà a riunirsi il prossimo 22 dicembre, momento in cui l'Italia presumibilmente dovrà fornire una risposta alle memorie di Arcelor Mittal. Da Taranto ci spostiamo a Piombino, un investimento di 2,2 miliardi di euro per produrre 2,7 milioni di tonnellate all'anno di acciaio, con due forni elettrici di ultima generazione e un laminatoio per coils. Metinvest e Danieli così hanno svelato in un partecipato incontro pubblico a Piombino i punti essenziali del loro Digital Green Steel Project. L'obiettivo di Metinvest è stato spiegato, è quello di recuperare la capacità produttiva persa con la distruzione di Azostal di Mariupol, ma si guarda anche a un mercato interno che vede l'Italia importatrice di circa 6,6 milioni di tonnellate all'anno di prodotti piani. Il laminatoio progettato da Danieli sarebbe in grado di produrre coils che variano da uno spezzore di 0,8 a 25,4 mm e una larghezza tra i 900 e i 2.134 mm. I forni di preriscaldo del Rottame sarebbero alimentati in parte consistente con il recupero di aria calda proveniente dagli stessi forni per la cui alimentazione si conta di provvedere con il mercato libero del Rottame e con le miniere di minerale di ferro disponibile in Ucraina trasformato in bricchette, quindi HBI. L'esistenza di un porto attrezzato a Piombino è ancora un punto di forza su cui punta il colosso siderurgico Metinvest. L'area prescelta dal progetto è quella di Ischia di Crociano dove sorgono i laminatoi di JSW Stile Italy per vergerla e barre il terreno del Demanio con una concessione ereditata da JSW dalle vecchie proprietà ma scaduta a settembre. Tutto dipende quindi dalla trattativa ancora in corso tra il Ministero del Made in Italy, la multinazionale indiana e i vari enti interessati. Questa era la nostra ultima notizia, il SiderwebTG torna puntuale venerdì prossimo. Arrivederci!